All'annuoto l'Ortigia supera il Triglav Kran e con una giornata di anticipo si qualifica al turno successivo di Eurocup. Ortigia batte nettamente il Triglav Kran e grazie alla contemporanea vittoria del Duisburg sul Pauk conquista matematicamente con una giornata di anticipo la qualificazione al turno successivo di Eurocup. Troppa la differenza in acqua tra i bianco-verdi e gli sloveni ma soprattutto buona la risposta dei ragazzi di Piccardo sul piano del carattere, del ritmo e della tensione difensiva. Già dal primo tempo l'Ortigia indirizza il match dalla sua parte sbloccando con Di Luciano che trova la controfuga vincente dopo aver rubato palla a metà vasca. La solo bianco-verde continua con Napolitano Cassia due volte la rosa i quali rendono vano il rigore di Reilic chiudendo il parziale con un preventore 5-1. Gli uomini di Piccardo macinano il gioco e sono micidiali e veloci nella transizione offensiva mentre in difesa minimizzano gli errori inibendo i timidi il tentativo di riazione degli sloveni. A metà gara il vantaggio dell'Ortigia è ancora più ampio 10-4. La lezione di ieri i bianco-verdi l'hanno imparata bene e lo si vede nel stesso tempo quando riescono a controllare la partita rischiando il meno possibile e riuscendo a tenere ancora a zero la casella delle superiorità numeriche trasformate dagli avversari. I gol di Campopiano, Di Luciano e La Rosa servito da Di Luciano portano il punteggio sul 13-4 per l'Ortigia. Negli ultimi 8 minuti invece si segnalano la doppietta di Giribaldi, il primo gol in superiorità del Tri-Club. Le reti di Campopiano e La Rosa che rendono il bottino più sostanzioso e l'ennesimo gol sul rigore 3-6 complessivi degli sloveni. Alla fine vittoria travolgente e qualificazione centrata. Oggi si chiude con il Duisburg in palio e il primo atto del girone.